Muoversi e non solo, è il progetto nato dalla collaborazione tra la Croce Bianca di Arezzo e l'azienda retina Eventi Sociali. Lo scopo è quello di mettere a disposizione gratuita della Croce Bianca di Arezzo per quattro anni un mezzo Ford Custom appositamente attrezzato e allestito in modo da rendere il servizio di solidarietà svolto dalla Croce Bianca il più efficace possibile ad Arezzo e provincia. Eventi Sociali è l'azienda pubblicitaria qua di Arezzo che ormai già da anni lavoriamo in tutto il centro Italia a stretto contatto con le associazioni di volontariato e i comuni per realizzare il progetto Muoversi e non solo. Oggi siamo qua proprio in supporto della Croce Bianca, un'associazione che ha oltre 120 anni di storia, oltre 300 volontari e in più che ogni anno percorre oltre 600 mila chilometri. Quindi questo fa capire l'impatto quotidiano che comunque ha a favore delle persone svantaggiate del territorio e noi siamo qua proprio per dotare l'associazione per i prossimi quattro anni di un nuovo Ford Custom nove posti che a bordo potrà avere tutto l'allestimento speciale e potrà accompagnare anche due persone in carrozzina e in più una novità importante del progetto, oltre a tutta la gestione del mezzo per i prossimi quattro anni a tutti i costi, compresa la casco, avrà proprio un servoscale motorizzato per i volontari. Questo per far sì, per permettere alle persone in difficoltà di poter uscire di casa e poter essere accompagnate sempre più in maniera sicura. Questo viene fatto grazie all'insieme delle prime aziende che attraverso una pubblicità etica e itinerante tutti i giorni per i prossimi quattro anni daranno la possibilità di essere sui maggiori punti di afflusso della città e del territorio grazie ai volontari della Croce Bianca.